La seconda voce che mi premeva farvi ascoltare come saluto filosofico al termine del vostro corso liceale è quella di Carl Jaspers, un grande pensatore novecentesco, che ha una storia piuttosto interessante. Jaspers nasce come psichiatra per poi diventare filosofo e poi dedicarsi alla filosofia, quindi rappresenta un ponte tra la psichiatria, lo studio della mente e la filosofia esistenziale. Filosofo che è stato fatto conoscere in Italia da Umberto Calimberti, che è stato anche primo a tradurne le opere e a curarne le edizioni italiane. Il brano che segue è un brano estremamente famoso sulla metafora del naufragio, quindi dalla chiacchiera passiamo a qualcosa di molto più serio ed impegnativo, che richiede un logos decisamente diverso. È anche attento alla scelta dei vocaboli, perché l'attenzione nella scelta dei vocaboli denota anche, come dire, uno spirito attento e rispettoso dei simboli, dei valori, dei nissi che scorgiamo nella realtà umana, quella nostra, interiore, quella che ci circonda. Alla fine c'è il naufragio. Lo dimostra l'orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti. Ma c'è di più. Il naufragio è l'ultimo evento che attende tutto ciò che in generale viene chiamato alla presenza dal pensiero. Ogni validità raggiunta nell'ambito logico naufraga nella relatività. Portato ai suoi limiti, il sapere viene a trovarsi tra antinomie che fanno naufragare ogni tentativo di pensare senza contraddizioni. Oltre i limiti del sapere, si annuncia, sovrastante, la verità non razionale. Per l'orientazione nel mondo, naufraga l'esserci del mondo, per l'impossibilità di comprenderlo in sé e per sé. Esso, infatti, non è un essere in sé concluso che si possa considerare nella sua unità, né, d'altro lato, il processo conoscitivo è in grado di giungere ad una totalità organica. Nella chiarificazione dell'esistenza, naufraga l'inseità dell'esistenza, perché là dove sono propriamente me stesso, non sono solamente me stesso. Nella trascendenza, naufraga il pensiero che si affida alla passione per la notte. Per il momento ci fermiamo qui. Da notare una considerazione simile a quella che abbiamo fatto per Heidegger, l'estrema ricchezza del lessico. Avete immediatamente colto dei termini, per esempio l'esserci, che sono termini heideggeriani, che Jaspers condivide con Heidegger, indubbiamente, ma anche termini propri. Per esempio la metafora del naufraggio è propriamente jaspersiana, anche se in generale il naufraggio non è un tema soltanto di Jaspers. Si pensi all'infinito di Leopardi, tanto per fare l'esempio più celebre della metafora del naufraggio. Alla fine c'è il naufraggio, è un punto d'arrivo il naufraggio. Quindi la prima cosa che ci viene in mente anche qui è la morte. Quindi meditare sul naufraggio significa assumere quel pensiero dell'essere per la morte di cui dicevamo la scorsa volta, commentando il passo di essere tempo di Heidegger. Alla fine è un punto d'arrivo. Perché c'è il naufraggio? Anche questo è un dato di fatto. Lo dimostra, sta lì a dimostrarlo intuitivamente. L'orientazione nel mondo, l'orientazione nel mondo, è il tempo che scorre, che è la trama della nostra esistenza, che è orientato, passato, presente, futuro, che inesorabilmente si attiene ai fatti. Quindi la nostra orientazione esistenziale inesorabilmente si attiene alle fattualità. Attualità che sono quelle della vita. Si nasce, si vive, si invecchia, si muore. Ma c'è di più. Il naufragio è l'ultimo evento che attende tutto ciò che in generale viene chiamato alla presenza del pensiero. Quindi non c'è soltanto il dato, per così dire, esistenziale, quello che rappresenta, come dire, la trama di evoluzione biologica ed esistenziale nello stesso tempo della nostra vita. Ma c'è anche un altro elemento. Quindi il naufragio è metafora più ricca, più ampia. Ovvero il naufragio è il punto d'arrivo, è l'evento ultimo che attende tutto ciò che viene chiamato alla presenza del pensiero. Tutto quello che posso pensare, che posso immaginare in ultima istanza è destinato al naufragio. Tutto quello che posso capire, che posso afferrare, ha la stessa caratteristica provvisoria, transeunte degli attimi che mi trovo a vivere, della trama della mia esistenza. Così come ogni momento della mia vita è transitorio, quindi tutto quello che posso afferrare, sperimentare, ha una validità relativa, è basata sullo scorrere del tempo, alla stessa maniera. Tutto ciò che posso concepire, che posso afferrare con il pensiero, è destinato al naufragio, è destinato a perdersi, è destinato ad andare oltre, a scorrere via. I buddhisti direbbero che è dotato di aniccia, termine pali che indica l'impermanenza, cioè l'essere privo di sostanza propria. Aniccia è il concetto di impermanenza, di provvisorietà di tutto ciò che esiste, che si collega a anatta, cioè all'essere privo di sostanzialità, cioè all'essere privo di quel nucleo di essere permanente che l'ontologia occidentale aveva posto alla base del pensiero stesso. Che con Heidegger, con la nuova concezione dell'essere di Heidegger, in parte si era risolto, e lo vediamo anche qui con gli Aspers alla fine. Quindi alla fine tutto è destinato al naufragio. È un pensiero, quello di Aspers, l'abbiamo già visto per esempio in Levinà, che tende verso la trascendenza, verso l'ulteriorità, perché poi il naufragio è il punto di svolta, è la metafora, che mostra il limite dell'immanente e lo sporgersi, il far capolino, del trascendente nella trama dell'esistenza di ciascuno di noi. Infatti ogni validità raggiunta nell'ambito logico, e l'ambito logico è quello delle scienze positive peraltro, naufraga nella relatività. Il concetto di relatività, studiato e riformulato in termini fisici da Einstein, è ben presente a di Aspers, nonché agli esistenzialisti, comunque agli uomini del Novecento, ma pensate anche alla relatività che in qualche maniera aveva introdotto la filosofia di Bergson, quella relatività del flusso di coscienza che si oppone alla fantomatica e artificiale assolutezza identitaria tipica del tempo della scienza. Vi ricordate la metafora della collana di perle? Attimi separati, artificiali, quindi non conformi alla realtà, versus la valanga o il gomitolo di lana che si va srotolando, cioè il tempo della coscienza di cui parlava Bergson. Quindi ogni validità raggiunta nell'ambito logico è destinata a naufragare nella relatività. portato i suoi limiti il sapere, il sapere scientifico, il mio positivista, il sapere umano in generale, viene a trovarsi tra antinomie, antinomie, che fanno naufragare ogni tentativo di pensare senza contraddizioni. L'antinomia è il nomos anti, il nomos contrapposto, la regola contrapposto. Le antinomie sono per esempio quelle della dialettica trascendentale kantiana, cioè il poter dimostrare con assoluta certezza tanto che il mondo è finito quanto che il mondo è infinito o che Dio esiste piuttosto che Dio non esiste. Cioè, portata ai suoi limiti, ci insegna lo stesso Kant, la ragione inevitabilmente naufraga, facilicca. Cioè, se si spinge oltre i confini della conoscenza scientifica e la conoscenza scientifica ha dei confini che ne limitano inevitabilmente la portata, ebbene la ragione si perde, si dissolve e con essa si dissolve anche la pretesa di poter catalogare il mondo, di poterlo afferrare, di poterlo tradurre in concetti, di poterlo rendere pienamente dispiegato e pienamente immanente. Oltre i limiti del sapere si annuncia, quindi nel naufragio, una volta raggiunti i limiti, abbiamo l'annuncio di una sovrastante verità che non è razionale, cioè non è traducibile secondo criteri definiti, non è razionalizzabile, non è misurabile, non è quantificabile, quindi non è conoscibile secondo i criteri della scienza, della scienza neopositivista, per esempio, abbiamo visto come l'esistenzialismo è in polemica più o meno vicino, più o meno distante rispetto a quella che è un'altra corrente predominante nella prima metà del Novecento, con poi sviluppi successivi, arriva fino ad oggi, c'è il neopositivismo, o meglio la filosofia analitica, quella di ambito anglosassone, quella che parla principalmente inglese, per così dire, no? Quindi, oltre i limiti del sapere, che, per dirla con Wittgenstein, sono anche i limiti del nostro linguaggio, si annuncia, sovrastante, una verità, il termine lo conosciamo bene, quello della tradizione filosofica occidentale, che ha tutte le connotazioni di irrazionalità o di arrazionalità, è fuori, è al di là, e al di là della nostra portata, ecco, il naufragio. Quindi, il naufragio, in primo luogo, è una metafora esistenziale, dobbiamo naufragare, dobbiamo morire, e dobbiamo prendere coscienza di questo, come nel caso dell'essere per la morte di Heidegger. Nello stesso tempo, la morte ha anche un valore metaforico, è il naufragio delle possibilità, delle pretese conoscitive, tipiche della scienza contemporanea, e quindi di quel pensiero immanente, totalizzante, che aveva condannato anche lo stesso, che condannerà lo stesso Levinas, che è contemporaneo dei filosofi che stiamo studiando, peraltro. Per l'orientazione nel mondo, naufraga l'esserci del mondo, per l'impossibilità di comprenderlo in sé e per sé e per sé. L'esserci del mondo è la... L'esserci, parliamo sempre dell'essere umano, quindi l'esserci è l'ente che ha consapevolezza di stare al mondo, per così dire. Siccome il mondo è orientato in questa maniera, ha queste caratteristiche, ha questi limiti, ha queste, per così dire, colonne d'ercole invalicabili, ebbene anche l'esserci, naufraga. È la stessa dimensione di situazione dell'uomo che è destinata a fare naufragio, perché nel momento in cui si scopre come entità pensante, ovvero che si pone la domanda intorno all'essere, immediatamente coglie anche l'impossibilità piena di comprendere, cioè di far suo, comprendo, di afferrare, di abbracciare interamente l'essere. La domanda intorno all'essere, quindi intorno al senso della vita, intorno alla gettatezza dell'esistenza, rega con sé immediatamente, in maniera consustanziale, la consapevolezza dell'impossibilità della comprensione come atto razionalizzante, formalizzante e come atto comprensivo, cioè che prende, che cataloga, che afferra, che solidifica in termini egoici, egocentrici, per così dire. Esso, infatti, non è un essere in sé concluso che si possa considerare nella sua unità, né d'altro lato il processo conoscitivo è in grado di giungere ad una totalità organica. Non c'è totalità organica. Per quanto ci si sforzi cantianamente di ripercorrere su e giù la totalità dei fenomeni che chiamiamo mondo o la totalità dei fenomeni intrapsichici che chiamiamo io o la somma dei due fenomeni intrapsichici ed esterni che chiamiamo Dio, per quanto ci si sforzi non si giungerà mai ad una totalità organica. Quindi, in ultima istanza, occorre abbandonarsi al naufragio. Giungere all'idea della trascendenza significa fondamentalmente abbandonarsi. È quel naufragio di cui parla Leopardi. Terrifico da un lato ma anche benefico quando ci si abbandoni dall'altro. è la metafora dello stare strettamente abbracciati allo scoglio per paura dell'acqua alta, per paura di andare a fondo, tagliandosi le mani perché lo scoglio è appuntito e perché il flusso delle onde ci ributta continuamente contro lo scoglio, fino al gesto finale dell'abbandonarsi e del provare a nuotare sfidando la paura delle immense profondità che vere o presunte che ci attendono, quindi abbandonarsi allo stesso flusso delle onde. È un gesto comunque taumatico, quindi meraviglioso nel senso di affascinante e di terrifico allo stesso tempo. Nella chiarificazione dell'esistenza naufraga l'inseità dell'esistenza, quindi nel momento in cui chiarifico questa caratteristica fondamentale dell'esistenza, di che cosa significa esistere, ex-sistere, cioè era il termine che ho specificato nella scorsa lezione, cioè lo sporgersi fuori, ex, lo sporgersi fuori da, dall'essere evidentemente, dalla totalità e il provvisorio istemi, stare, quell'istemi, quello stare che è legato alla totalità dell'essere, alla trascendenza, dal prefisso ex, per così dire. Quindi se io chiarifico il significato dell'esistenza viene meno anche l'inseità dell'esistenza, cioè il fatto che l'esistenza sia conclusa in sé per sé, che sia un'identità a tutto tondo, perfetta, conclusa, quindi razionalizzabile, quindi afferrabile, quindi perfettamente chiusa nella sua immanenza, la famosa ben rotonda sfera di Parmenide. Dunque, se l'esistenza non è in sé, quindi non ha valore in sé, è perché rimanda l'altro da sé. Vedete, anche qui ritorna un concetto che abbiamo studiato, che abbiamo descritto, esponendo la visione di Levin A. quindi se non è in sé, si deve appoggiare all'altro da sé, che è il trascendente, che è l'ulteriore. Perché, argomenta Jasperz, là dove sono propriamente me stesso, non sono solamente me stesso. C'è il luogo della consapevolezza che mi fa giungere a me stesso, quando colgo veramente me stesso, mi sono liberato da me stesso. Sembra un gioco di parole, ma per chi ha fatto questa esperienza, forse tutti quanti, almeno una volta nella vita l'abbiamo fatto questa esperienza, l'elemento, il concetto è abbastanza chiaro, sei illuminato dall'esperienza, cioè colgo me stesso laddove abbandono me stesso, solo chi si perderà si troverà, per usare la metafora evangelica, o per dirla con Eraclito, per quanto io possa percorrere i confini dell'anima, dell'io, non non riuscirò mai a tracciarne il perimetro completo, cioè non riuscirò mai a definirne effettivamente i confini, per quanto io vada su e giù, tanto profondo, eh, vatius profondo, è il logos, è il discorso dell'anima, della psiché, quindi per quanto io possa esplorare i confini del mio io, tali confini geograficamente non li raggiungerò mai, non li potrò mai descrivere, perché nel momento in cui provo a descriverli, già mi sono spinto oltre questi confini, e quindi perdendo la nozione provvisoria e limitata del mio io, colgo ciò che è oltre il mio io, cioè il trascendente, che è il topos, il luogo del naufragio, nella trascendenza naufraga, il pensiero che si affida alla passione per la notte, è bello, qui è quasi poetico, più ricorda un passo dello Zaratustra di Nice, il canto per la notte, la passione per la notte, passione per la notte, nella trascendenza naufraga, il pensiero che si affida alla passione per la notte, che cos'è la passione per la notte se non questa questa sensazione metafisica, questa esperienza metafisica dell'abbandonarsi all'elemento notturno, l'elemento notturno è quello che invita al naufragio che è il sonno, lo scivolare tra le braccia di Morfeo per così dire, il rinunciare, l'allentare le difese, il rinunciare al prender tutto, al tenere tutto sotto controllo tipico dell'illusorio io concettualizzante, definitorio, quindi quello scivolare nella notte, quello scivolare appassionato, appassionato nella notte, ecco perché la notte è per gli amanti, qui è l'amante per eccellenza è colui che scivola tra le braccia della trascendenza, quindi dell'assolutamente altro da sé. Ciò che naufraga non è soltanto l'esserci che viene meno, non è soltanto la conoscenza che si infrange da sé nel tentativo di comprendere l'essere nel suo significato autentico, non è soltanto l'azione che fallisce nel tentativo di raggiungere uno scopo finale capace di mantenersi stabile e duraturo. Nelle situazioni limite diventa manifesto che tutto ciò che per noi è positivo è legato al negativo corrispondente. Non c'è un bene che non sia anche un male possibile e reale, non c'è verità senza falsità, non c'è vita senza morte, ogni felicità è congiunta al dolore, ogni realizzazione è a rischio della perdita. La profondità dell'animo umano in cui la trascendenza fa sentire la sua parola è connessa di fatto al disordine, alla patologia, alla stravaganza, a questa connessione nella molteplicità insospettata delle sue manifestazioni sfugge ad ogni interpretazione univoca. In ogni esserci posso scorgere una struttura antinomica. Dunque a naufragare abbiamo detto è l'esserci, quindi l'esistenza umana, ma a naufragare l'abbiamo detto è anche la conoscenza, la conoscenza intesa in termini razionali, che faccilecca, per così dire, posta di fronte alla sfida metafisica della comprensione dell'essere nel suo significato autentico. Quindi il naufragio è sempre un naufragio nell'essere, quell'essere di cui aveva parlato Heidegger, quell'essere inteso come foglio bianco, come possibilità massima, come principio materno, quindi indefinito, indeterminato, in sé per sé, come cora platonica, no? Il luogo dove l'informe che è la massima apertura del possibile in cui viene riassorbito ciò che provvisoriamente è emerso. Ricordiamoci anche la bella immagine dell'Aperon Animassandreo, l'indeterminato che sta per l'essere da cui provvisoriamente il singolo ente, la singola cosa viene ad esistere e in cui alla fine della ciclicità viene per così dire riassorbito. Quindi questo riassorbimento è tanto ontologico quanto gnosiologico. Quindi non solo falliamo e no fraghiamo dal punto di vista esistenziale, cioè nel tentativo di raggiungere uno scopo finale, nel tentativo di raggiungere quella stabilità durevole che per molti di noi è il punto d'arrivo della nostra esistenza, un punto d'arrivo di per sé contraddittorio perché l'esistenza è assolutamente anicia, cioè assolutamente impermanente. L'instabilità è la nostra stella polare, l'instabilità è la trama dell'esistenza. ed è proprio nelle situazioni limite, altro concetto tipicamente esistenziale è la situazione limite, la situazione limite è un abbandono, un addio, partire per un viaggio, nonché un trasloco volendo, un cambiamento repentino della propria esistenza, ovvero l'esistenza è continuo cambiamento, è in permanenza, però non sempre il nostro io cosciente segue il cambiamento che richiederebbe una meditazione accurata, quotidiana, segue il cambiamento nel suo prodursi, a volte c'è bisogno di un evento limite, traumatico che ci risvegli al cambiamento che nel frattempo è avvenuto, ci faccia scoprire di essere diventati adulti e quindi di non essere più bambini o adolescenti, cosa che molti di noi faticano ad accettare o di essere diventati vecchi o di non avere più i genitori perché la morte se li è portati via e quindi che la nostra situazione esistenziale è cambiata, il dover affrontare una malattia, un'operazione, no? Bene, queste sono le situazioni limite, ma possono anche essere fatti più banali, dipende dal valore che noi diamo agli eventi della nostra esistenza, può essere un abbandono, un addio, un amore che finisce. ecco, è nelle situazioni limite che cogliamo alla maniera di eraclito, per così dire, il nucleo essenziale del mondo, del metafisico, di ciò che è oltre, cioè che tutto è impastato con tutto, che tutto è in tutto ed è in relazione con tutto. ex panton to en da tutte le cose l'uno, dice eraclito, ex nos ta panta, da l'uno tutte le cose, tutto in tutto, non c'è un bene senza un male, non c'è caldo senza freddo. Vi ricordate il principio di contraddizione che è azzerato ancora prima della definizione che darà Aristotele dalla coincidenza degli opposti così ben tratteggiata, no? In maniera lapidaria, scultoria, dagli aforismi eraclitei. Il Dio è la stessa cosa, è pace, guerra, inverno, estate, vivo, morto, perché l'uno trasformandosi diventa l'altro. E quindi il naufragio è anche metaforicamente la presa di consapevolezza dell'indeterminatezza, dell'estrema potenzialità, dell'estrema apertura dell'essere. In questo consiste la sua trascendenza, lo stare oltre. Quindi il prescindere da quelle categorie parziali, univoche, quelle quali ci sforziamo di definire, di prendere, di intrappolare, di etichettare la realtà, di prendere in termini concettuali la realtà. La trascendenza e il naufragio che si manifesta in maniera drammatica nelle situazioni limite ci mette in condizione di toccare con mano la contraddittorietà, la aleatorietà, la pura e semplice strumentalità e quindi limitatezza dei logoi, dei discorsi che utilizziamo quotidianamente per darci conto del nostro stare al mondo e per cercare di definire un orizzonte che sia quotidianamente accettabile, che sia confortante, anche se era promessa una minaccia del naufragio come ci insegna l'orientamento stesso del mondo detto Jasper sempre lì a ricordarcelo passo dopo passo e qui c'è in questa ultima proposizione la profondità dell'animo umano in cui la trascendenza fa sentire la sua parola e connessa di fatto al disordine alla patologia alla stravaganza qui c'è un riferimento allo Jasper psichiatra all'esperienza dello Jasper psichiatra quindi è un'idea questa che abbiamo anche sviluppato parlando di Jung per esempio quindi la stravaganza la malattia la condizione straordinaria non vanno più intese o semplicemente intese come anormalità indietro all'anormalità c'è un'estrema ricchezza noi chiamiamo anormale quello che non riusciamo a identificare ma quello che non riusciamo a identificare spesso e volentieri per dirla con Heidegger è il il potere normalizzante dell'anonimato della chiacchiera del si dice del si fa ecco il folle ciascuno di noi quando diventa folle esprime un mondo decisamente più ricco il mondo più ampio degli archetipi junghiani per capirci va al cuore del simbolico è là dove il contraddittorio si manifesta in tutta la sua dirompensa quindi la stravaganza che la patologia ci dice molto in termini conoscitivi per così dire da adesso in ogni esserci posso scorgere cioè in ogni essere umano in ogni stare qui in ogni fenomeno immanente per così dire intramundano posso scorgere posso cogliere questa struttura antinomica contraddittoria mentre i diversi modi del naufragio che si presentano come realtà oggettiva o come inevitabili ipotesi mentali significano sempre in un modo o nell'altro un naufragio nell'esserci in quanto esserci il naufragio dell'esistenza si colloca su un altro piano quando partendo dall'esserci giungo con la mia libertà la coscienza dell'essere allora proprio nella più chiara decisione che il mio me stesso assume in ordine all'azione sono costretto a sperimentarne anche il naufragio quindi la contraddittorietà del significato del mondo per così dire dei fatti del mondo è già identificabile per così dire nell'intramondano nei fatti della vita quotidiana basta stare lì a guardarli ad analizzarli con un po' d'attenzione ed è quello il luogo in cui c'è il naufragio dell'esserci in quanto esserci poi c'è un naufragio ulteriore che è quello della libertà per così dire dell'autentico o della follia che è il naufragio alla coscienza dell'essere quindi alla possibilità ulteriore alla possibilità pura c'è il naufragio della trascendenza che ha un potere per così dire liberatorio mi libera ha un valore terapeutico la follia come terapia contro l'idiotismo dello stare al mondo contro l'anonimato dello stare al mondo contro il chiacchiericcio dello stare al mondo ecco che la pazzia è una via verso la trascendenza indubbiamente pensate alle poesie di Alda Merini fatto per fare un altro esempio infatti l'impossibilità di porre in sé il proprio fondamento ultimo non nasce solo dai legami che ci vincolano all'esserci che effettivamente va in rovina ma dalla stessa libertà per la quale io divento in ogni caso colpevole perché non posso diventare tutto di fronte ai molti modi in cui si può naufragare rimane ancora aperta la questione se il naufragio è annichilimento puro e semplice dal momento che ciò che naufraga va realmente in rovina o se invece nel naufragio viene a manifestarsi un essere per cui il naufragare non sarebbe soltanto un naufragare ma anche un eternare l'esistenza deve prendere parte al naufragio innanzitutto nell'attività che implica un proprio rischio quindi nell'abbandono al proprio naufragio la decisa manifestazione della cifra non la si ha con la contemplazione che si limita ad accoglierla passivamente ma con l'esistenza che perdendosi come esserci risorge come libertà nel senso che infrangendosi come esistenza trova in ciò il fondamento che la rinvia all'essere della trascendenza dunque riprendiamo il passo dall'inizio l'impossibilità di porre in sé il proprio fondamento perché il fondamento è oltre il fondamento dell'esserci è l'essere quindi travalica va oltre l'essere tale impossibilità non nasce solo dai legami che ci vincolano all'esserci che effettivamente va in rovina quindi questa impossibilità non la cogliamo soltanto dal fatto che siamo legati siamo vincolati all'esserci cioè la situazione standard quella della vita che della vita biologica che inevitabilmente manifesta ad ogni piesso spinto il suo andare in rovina il suo consumarsi il suo tendere alla distruzione alla vecchiaia alla morte il suo essere transeunte in questo senso quindi non è solo qui che cogliamo questa impossibilità ma deriva dalla stessa libertà in base alla quale grazie alla quale io divento in ogni caso colpevole perché non posso diventare tutto quindi a ricordarmi che è impossibile per me porre il fondamento in me stesso ovvero che il mio esistere è sempre esistere in ragione in forza di qualcos'altro cioè del trascendente del divino Jasper Screen ancora non ha utilizzato non utilizza la parola divino ma insomma possiamo utilizzare il termine divino tanto per capirci ecco è data da una parte dall'esserci stesso dalla consapevolezza di che cosa significa esistere e dall'altra dalla libertà in base alla quale grazie alla quale io in ogni momento divento colpevole di non poter diventare tutto che cos'è la colpevolezza in senso esistenziale ebbè quella massima apertura della libertà qui si accompagna l'angoscia come abbiamo studiato in Heidegger per cui io a un certo punto devo scegliere cioè ogni scelta è selezione e selezione vuol dire scegliere A abbandonare B aprire una porta e chiuderne un'altra e quindi la libertà chiama con sé anche la colpevolezza perché se io tendo la mano al mio prossimo a quel prossimo lì sto trascurando quell'altro prossimo là la vita è fatta in tessuta di scelte dolorose che ci colpevolizzano in qualche maniera ma qui si tratta una colpevolezza metafisica la colpevolezza del nostro essere limitati metaforicamente il peccato originale se vogliamo ricondurlo alla tradizione biblica questo è il concetto è il limite di fronte ai molti modi in cui si può naufragare rimane ancora aperta la questione se il naufragio è annichilimento oppure è semplice annichilimento cioè diventare niente annientarsi annientamento dal momento che ciò che naufraga va realmente in rovina si perde si sgretola passa dall'essere al non essere da ente a non ente da ente a niente niente è il contrario dell'ente non ente quindi annichilimento totale o se invece nel naufragio viene a manifestarsi un essere per cui il naufragare non sarebbe soltanto un naufragare ma anche un eternare quindi rimane aperta questa questione il naufragio rappresenta un puro e semplice passaggio dall'ente al niente quindi dall'essere al non essere per dirla con Parmenide oppure piuttosto da un certo modo di essere dell'esserci dato in questa vita qui ad un naufragare in un'altra idea di essere che è l'essere inteso come massima apertura un tornare nel grembo materno della possibilità e quindi un eternarsi un ritornare alla sorgente quindi questo salto nel buio della trascendenza sarebbe come un ritornare alla sorgente un ritornare al divino per dirla sempre utilizzando il linguaggio religioso vedete che il discorso che sta facendo qui Jaspers per il momento sta parlando della trascendenza ma ne sta indubbiamente parlando secondo codici linguistici semantici diversi rispetto a quelli della filosofia tradizionale quindi qui la differenza va marcata indubbiamente e il valore dell'esistenzialismo lo state toccando con mano è quello di fornire all'uomo laico dell'uomo all'uomo laico del ventesimo del ventunesimo secolo una possibilità di pratica esistenziale spirituale aggiungerei io termine spirituale non ho nessun problema a utilizzarlo che va al di là di questa o di quella confessione religiosa quindi veramente una chiave di lettura ecumenica che ci metterebbe al riparo si fa per dire perché contro l'idiozia umana purtroppo non ci sono barriere furtini che tengano per così via ma diciamo potenzialmente ci metterebbe al riparo dai fondamentalismi dai fanatismi dai dogmatismi di qualunque colore o di qualunque diciamo qualunque vestito e si porta la decisa manifestazione della cifra la cifra cioè il simbolo la cifra è la lettera non la si ha con la contemplazione che si limita ad accoglierla passivamente accolgo passivamente devo morire devo fare naufragio dunque mi passivizzo rispetto a questa alla possibilità che è la chiusura di tutte le possibilità per dirla con Heidegger bensì con l'esistenza che perdendosi come esserci risorge come libertà quindi il naufragio l'approccio con la trascendenza col divino come apertura della libertà come vera libertà cioè se non ci fosse la possibilità di naufragare o la certezza di naufragare io effettivamente non sarei libero che poi è anche qui il significato se andiamo a vedere l'angelo come ci insegna anche il non so per esempio il famoso passo di Pico per la Miranda il De Dignitate Ominis Adamo dice Dio Dio del Rinascimento Dio Neoplatonico non ti ho fatto né bestia né angelo ti ho messo in una situazione intermedia affinché tu possa effettivamente elevarti o regredire alla brutalità regredire nel bruto ovvero sei libero di scegliere se elevarti o abrutirti la libertà di scelta è effettivamente la consapevolezza del proprio limite congiuntamente alla prospettiva della trascendenza l'angelo non ha alcuna possibilità di scelta non è veramente libero non è veramente libero come non è veramente libero l'animale che si basa esclusivamente sulla sua istintualità la contraddizione del naufragio rimane come apparizione fenomenica la soluzione non è nota ma è nell'essere che rimane nascosto e che può essere incontrato da chi seguendo il proprio destino percorre gradi esistenziali è nascosto è oltre quel Deus absconditus di cui ha parlato anche parla anche Jonas o Leminà per esempio il Dio che si sottrae questo essere non lo si può presupporre magari si potesse presupporre inquadrare definire predefinire nessuna autorità può disporne osservirsene tantomeno quelle religiose o ecclesiastiche esso riluce solo per colui che osando ci vuole molto coraggio gli si avvicina infinite sono le vie che conducono al divino per così dire dipende dalla scelta esistenziale di ciascuno di noi nessuna autorità è autorizzata a disporne e a servirsene tantomeno per scopi politici aggiungo io ultima sezione del brano volere direttamente il naufragio sarebbe un pervertimento che condurrebbe di nuovo l'essere nell'oscurità del nulla dunque nessun tipo di annientamento di suicidio volontario per così dire non ogni trapasso non ogni annientamento o abbandono di sé o rinunzia o rinnegamento esprimono l'autentico naufragio che rivela quindi non è nell'annichidimento del sé nella fuga verso se stessi nell'annichilimento di sé inteso come fuga psicotica nel senso depressivo chiusura in se stessi depotenziamento della vita non è questo il naufragio che libera attenzione questo è un naufragio annichilente che non è il vero naufragio verso l'apertura della trascendenza verso la libertà la cifra dell'eternare nel naufragare si chiarisce solo quando io non voglio il naufragio ma rischiando l'affronto non lo voglio non ho scelto io il naufragio mi ci confronto col naufragio non voglio morire non è un cupio di solvi un voler finire è un stare nel qui e nell'ora un battersi un combattere qui notiamo un'anticipazione di quella che poi vedremo in camion lo stare nella vita sapendosi alla fine destinato al naufragio alla sconfitta ma lo starci eroicamente eroicamente combattere quindi l'eternare nel naufragare mi si chiarisce solo quando io non voglio il naufragio mi ci oppongo sto nella vita voglio questa vita sto qui nel provvisorio mi confronto dal punto di vista del provvisorio mi confronto con l'ulteriore col metafisico io non posso fare dei piani in base alla lettura della cifra del naufragio perché i piani li posso fare solo con ciò che mi garantisce durata e stabilità la cifra non si manifesta quando io lo voglio ma quando faccio di tutto per evitarne la realizzazione non sono io a scegliere la situazione limita in cui il destino mi impone di cacciarmi per così dire d'accordo non sono io a volerlo non sono io a determinarlo altrimenti sarebbe un atto come dire razionale limitante non funziona così essa si manifesta tale cifra nell'amorfati c'è l'accettazione del destino di ciò che avviene che mi travalica sempre che va oltre il criterio razionalizzante che va oltre le mie possibilità di predeterminare le tappe successive del mio stare al mondo ma sarebbe un falso fatalismo quello di chi si arrendesse prima del tempo precludendosi così la possibilità di giungere al naufragio al vero naufragio quindi non è quella di jasperz guardate bene o quella esistenziale in generale non è una filosofia della rinuncia del pessimismo dell'irresponsabilità o meglio della de-responsabilizzazione è filosofia militante lo vedremo soprattutto in Sartre Camus ma chi gli aspers si tratta di intellettuali engagés impegnati impegnati non solo nel dibattito filosofico ma anche nel dibattito politico della loro epoca ci stiamo siamo che lottiamo siamo in piedi se duco il naufragio a cui mi abbandono volontariamente non è altro che il nulla vuoto allora il naufragio che mi coinvolge quando ho fatto veramente di tutto per evitarlo non può essere solo naufragio così sperimento l'essere quando nell'esserci ho fatto quello che potevo per difendermi combattuto fino alla fine non mi sono lasciato andare e analogamente quando come esistenza rispondo completamente di me e da me tutto esigo ma non quando nella coscienza della mia nullità di creatura di fronte alla trascendenza mi abbandono alla caducità proprio dell'essere creatura quindi sperimento l'essere quando ho veramente fatto nella contingenza della mia vita tutto quello che era il mio potere per difendermi quando tutto esigo da me stesso onestamente in maniera trasparente autentica facendomi carico del dramma del vivere dicendo di sì nicianamente alla vita per quello che mi dà in tutte le sue contraddizioni dice qui il brano che abbiamo appena finito di leggere come dire fa l'occhiolino da tutte le parti non solo nel lessico ma anche nei concetti fondamentali anche nel riferimento al mondo greco a quell'eraclito a Nassimandro che abbiamo citato prima per esempio quindi è quando mi batto quando mi batto è questa la potenza per così dire dello stare al mondo in maniera consapevole quando sposo incarno la tragicità dello stare al mondo che raggiungo effettivamente la trascendenza non quando mi abbandono mi lascio andare fiaccamente alla caducità alla nullità del mio essere creatura quindi non è una filosofia della deresponsabilizzazione dicevo prima della depressione dell'automortificazione tutt'altro è una filosofia dell'essere combattivo dell'impegno dell'impegno inteso come stella porare della propria esistenza che come vedremo in altri brani proseguendo questa nostra esplorazione ontologica dell'esistenzialismo si traduce anche come impegno impegno politico come impegno militante nella trasformazione della società a volte in il caso di Sartre questo impegno incontra anche per esempio il marxismo o altre filosofie non analitiche tipiche del ventesimo secolo è tedesco quindi si dice Jaspers magari può interessare qualcuno di voi perché lui nasce come medico come psichiatra ha inizio la sera giurisprudenza nato nel 1883 e poi si è orientato verso medicina ha conseguito la laurea in medicina e si è occupato fondamentalmente di psichiatria ha lavorato in varie case psichiatriche all'epoca erano manicomi quindi potete immaginare e ha realizzato degli studi per l'epoca decisamente innovativi dall'epoca parliamo quella della prima guerra mondiale insomma fino agli anni primi anni 20 e ha scritto un libro importante di psichiatria sulla filosofia delle visioni del mondo e poi dei testi di medicina lui è quello che ha dato vita in un certo senso alla corrente psichiatrico esistenzialista quindi se oggi ci sono degli psichiatri che magari hanno varie specializzazioni anche in psicoterapia di stampo esistenzialista lo dobbiamo anche fondamentalmente agli aspers quindi lui coniuga ha coniugato per così dire la visione medico-psichiatrica a quella della filosofia esistenziale ma vi siete resi conto strada facendo che effettivamente questa coniugazione non solo è possibile ma è produttiva forse anche necessaria dipende evidentemente dalla concezione di ciascuno di noi e altri fatti rilevanti poi si è dato fondamentalmente alla filosofia perché all'epoca comunque l'interesse per la psichiatria confinava direttamente con la filosofia quindi ha iniziato a lavorare all'università come filosofo e nei primi anni trenta ha realizzato altre opere abbastanza importanti facile da ricordare una si intitola appunto filosofia un'opera in tre libri siamo ai primi anni trenta lui è quindi il contemporaneo di Heidegger tedesco però lui si dichiaratamente antinazista anzi antinazista ha un motivo in più la moglie ebrea Gertrude Meyer sposato nel 1910 lui è innamoratissimo della moglie e poi per motivi poi di coerenza sua non solo per la sua vicenda personale la moglie non la vuole lasciare viene marginato progressivamente dall'accademia mentre Heidegger rimane al suo posto lui rimane al suo posto ma viene marginato fino allo scoppio della seconda guerra mondiale viene reso sostanzialmente innocuo e rimane non emigra sceglie di non emigrare lui dirà successivamente che ha scelto di non emigrare un po' perché vuole rimanere in Germania perché mi sembra giusto non rinunciare alla patria nonostante il regime feroce il regime nazista e dichiaratamente lui è segnato come oppositore e poi perché non sa le lingue sa solo il tedesco è innamorato della sua Heidelberg quindi rimane ad Heidelberg fino alla fine della guerra e il mandato di arresto di cattura per Jasper era firmato era previsto per il 14 aprile 1945 perché il regime agonizzante prima di tirare le cuoia per così dire vuole far fuori tutte le persone tutti anche i dissidenti lui non era assolutamente pericoloso con i libri si fa poca cosa però hanno deciso di farlo prendere dalla Gestapo e però ecco fortunatamente il 30 marzo 1945 gli americani arrivano ad Heidelberg anche nella zona della Renania quindi una delle prime zone della Germania a essere liberate quindi lui si salva veramente per il rottore della cuffia dopo la seconda guerra mondiale lavora lacrimente per la ricostruzione della Germania per la ricostruzione morale in primo luogo scrive anche un libro sul senso di colpa dei tedeschi del popolo tedesco un libro abbastanza importante ma le cose poi non vanno nella direzione che lui avrebbe sperato e la delusione di molti intellettuali per come viene riorganizzata la Germania l'Italia gli altri paesi europei in particolare i paesi sconfitti grandi speranze alla fine della guerra grandi principi grandi discussioni ma poi si rendono conto lui si rende conto che la Germania non è cambiata più di tanto anzi che alcuni personaggi assolutamente discutibili comunque complici del regime ma tutti erano complici del regime in una maniera o nell'altra rimanevano al loro posto e che quindi quel rinnovamento morale che avrebbe sperato attuarsi in Germania non viene effettivamente attuato pensate lui ormai anziano quindi siamo agli anni anni 50 come dirà nel 69 lui è anziano e decide a questo punto di emigrare non era emigrato sotto il terzo Reich emigra dopo la guerra e finisce i suoi giorni a Basilea in Svizzera comunque paese di lingua tedesca quindi quantomeno non deve studiarsi in tarda età altre lingue e finirà i suoi giorni all'università di Basilea quindi un personaggio che ha attraversato tutta la storia del Novecento e che ha una traiettoria divergente rispetto a quella di quell'altro grande personaggio pietra migliare della filosofia esistenzialista novecentesca quella Heidegger di cui abbiamo sommariamente detto di Jaspers leggiamo e commentiamo un paio di testi questo è memorabile il naufragio il termine già è di per sé un termine molto evocativo poi mi direte voi cosa vi fa venire in mente anzi me lo dite subito cosa vi fa venire in mente il naufragio sicuramente Kierkegaard bravo perché il naufragio riguarda la trascendenza il rapporto con la trascendenza quindi va bene Kierkegaard proprio il termine naufragio sì romantici bravo in particolare ah bravo la zatta della medusa è un altro riferimento interessante ma io pensavo al leopardi naufragio che però hai detto bene anche vedere con quella mentalità romantica quindi sempre il rapporto tra finito e infinito oltre a uomo e la trascendenza allora alla fine c'è il naufragio lo dimostra l'orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti l'orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti naufragio è il punto d'arrivo e allora possiamo utilizzare il primo termine che ci viene in mente naufragio è la morte è l'agnentamento il termine inesorabilmente l'avverbio inesorabilmente l'attenersi alla fattualità della vita non lasciano margini di fraintendimento ma poi si può declinare in altre maniere adesso vediamo ma c'è di più il naufragio è l'ultimo evento che attende tutto ciò che in generale viene chiamato alla presenza dal pensiero quindi il naufragio non riguarda soltanto la singola esistenza e quindi la prospettiva della morte l'essere per la morte di Heidegger le idee sono più o meno sempre le stesse i concetti sono più o meno sempre gli stessi anche se il lessico magari il linguaggio le metafore cambiano poi da pensatore a pensatore glielo possiamo concedere quindi il naufragio è l'essere per la morte questa prospettiva ma vedete che il naufragio non riguarda soltanto la fine vita quindi la prospettiva esistenziale personale ma tutto ciò che viene chiamato alla presenza del pensiero in ultimo istante finisce con il naufragare tutto quello che possiamo pensare quindi questo è un naufragio di tipo epistemologico ignoseologico conoscitivo per quanto io mi sforzi io filosofo io singolo umano mi sforzi di concettualizzare di pensare il reale inevitabilmente il mio sforzo è destinato al naufragio quindi se vogliamo parlare di romanticismo possiamo farlo entro certi limiti purché non si scomodi il razionalismo di Hegel il quale il quale invece ritiene che giustamente che la ragione in ultima istanza non finisca col naufragare cioè che il pensiero razionale possa esaurire tutto il reale che è appunto razionale quindi è una visione in questo senso profondamente anti-hegeliana tanto per fare qualche riferimento a filosofi che già conoscete ogni validità raggiunta nell'ambito logico naufraga nella relatività quindi questo vale non solo per la filosofia ma vale anche per la scienza tutto è relativo in ultima istanza qualunque concetto raggiungiamo qualunque tappa della conoscenza possiamo immaginare di aver raggiunto tuttavia questa tappa è sempre esposta alla relatività e quindi in ultima istanza al naufragio ma vabbè nulla di nuovo sotto il sole se vogliamo no? portato i suoi limiti il sapere viene a trovarsi tra antinomie che fanno naufragare ogni tentativo di pensare senza contraddizioni oltre i limiti del sapere si annuncia sovrastante la verità non razionale antinomie contraddizioni se vi ricordate la dialettica transcendentale di Kant la ragione kantiana in ultima istanza di fronte a quell'oceano sterminato della metafisica che si pone dinanzi tanto che usare la metafora che già conoscevi in ultima istanza non può che fare naufragio cioè si perde in una serie di contraddizioni quando iniziamo a ragionare intorno ai massimi sistemi o cerchiamo di organizzare la nostra vita inevitabilmente la ragione si smarrisce e nel momento in cui si smarrisce quindi il pensare manifesta tutte le sue contraddizioni ecco balenare ecco annunciarsi al di sopra la verità non razionale cioè quella sfera trascendente con la quale comunque dobbiamo fare i conti che al di là delle nostre possibilità leggi il rapporto con Dio nella visione esistenzialista ma profondamente cristiana di Kierkegaard quindi qui c'è la trascendenza però come notate come noterete alla fine del brano non si parla mai di Dio cioè questo Dio qui questa entità infinita e trascendente non è Dio non è il Dio cristiano quello di Abramo di Isacco non ha nulla a che vedere con la salvezza non è incarnato e così via quindi è una visione trascendente spirituale indubbiamente ma almeno del linguaggio laica almeno del linguaggio laica per l'orientazione nel mondo naufraga l'esserci del mondo per l'impossibilità di comprenderlo in sé per sé l'esserci del mondo qui si riferisce a tutti gli enti a tutte le cose che sono non solo all'uomo a tutti gli enti cioè tutte le cose che sono tutte le cose che possiamo pensare tutte le cose finite con le quali entriamo in relazione sono comunque destinate al naufragio e perché sono destinate al naufragio per l'impossibilità di comprenderle in sé per sé cioè il loro essere non è autonomo il loro essere provvisorio è comunque derivato cioè l'esserci e i singoli enti per utilizzare il linguaggio heideggeriano qui usa solo esserci quindi è più semplice tutte le cose che sono dal banco all'albero ad azzurra eccetera eccetera derivano il loro essere da questo sfondo da questa entità trascendente che è l'essere con la E maiuscola per capirci quindi non sono concluse in sé e per sé non possono essere comprese in sé per sé cioè tutte le cose che sono rimandano sempre a altro da sé questo altro da sé è appunto l'essere lo sfondo comune il trascendente esso infatti non è un essere in sé concluso che si possa considerare nella sua unità né d'altro lato il processo conoscitivo è in grado di giungere a una totalità organica ovvero non lo posso intuire con un unico atto conoscitivo ma d'altro canto non posso nemmeno arrivarci facendo una serie di collegamenti alla maniera di Hegel a comporre una totalità organica d'accordo? quindi se io guardo una singola cosa mi sfugge il suo rapporto con l'essere cioè io debbo presupporre il rapporto con l'essere ma la sua il suo stare qui nel mondo non può essere autofondato cioè l'essere di Azzurra non è autogiustificato rimanda ai genitori rimanda ai moni rimanda a molte altre condizioni e per quanto io mi sforzi di esaminare tutte queste condizioni di metterle in ordine attraverso un processo razionale risalendo da effetto a causa inevitabilmente sono destinato al naufragio cioè arriva un punto in cui mi devo fermare ma nulla di nuovo anche qui nulla di nuovo anche qui sono cose che la filosofia conosce perfettamente nel senso che io posso prendere risalire dagli esseri dai singoli esseri dai singoli enti fino a arrivare al creatore a Dio e immaginarlo come posto perché in ultima istanza devo fare il salto dalla parte razionale alla fede un medievale ragionerebbe così d'accordo? cioè vado di effetto in causa 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 fino per dirla con Aristotele al primo motore immobile che devo porre comunque dal punto di vista di un cristiano con un atto di fede non posso esaurire tutto il discorso non ce la faccio anche perché la mia ragione è una ragione comunque finita limitata d'accordo? il salto finale è un atto di fede in rapporto con la trascendenza no allora per i Asperts lui dice è impossibile è impossibile che si possa cogliere la causa della singola cosa pensando la singola cosa perché la singola cosa rimanda sempre ad altro da sé trova fondamento sempre nell'altro da sé cioè il singolo ente trova fondamento sempre nell'essere d'altro canto a voler esaminare il rapporto effetto causa e quindi non con un atto un singolo atto conoscitivo ma con un processo dialogico per cui se dico A allora B se dico B allora C se dico C allora D se dico D allora E eccetera eccetera anche se mi mettessi ad esaminare la faccenda in termini logico-razionali passo per passo come facciamo ad esempio con la matematica in ogni caso il mio ragionamento sarebbe destinato al nofrato non mi porta da nessuna parte quindi non fa anche l'assetto del primo motore di Aristotele? sì nel senso che il primo motore di Aristotele o il dio della tradizione cristiano cattolica è comunque il punto della verità non razionale sì è comunque un qualcosa a cui posso aggiungere attraverso un atto di fede più o meno motivato perché poi la fede ha una sua ragionevolezza ma insomma dal punto di vista mistico spirituale abbandonarsi a Dio se l'ultima tappa è l'abbandono a Dio è l'atto di fede perché non avrò mai la certezza mai e poi mai la certezza dell'esistenza di Dio posso dubitare fino all'ultimo respiro della vita anche se la fede è stata facendo mi può sostenere ma in ultimo occorre passare come diceva Kierkegaard per la disperazione perché il rapporto tra finito e infinito è un rapporto sempre incolmabile quindi occorre la fede va bene e togliamo fede e mettiamo un naufragare e abbiamo una situazione tutto sommato simile sì d'accordo la fede ha un suo contesto anche culturale che mi aiuta a definire meglio la situazione cioè quando io ho fede se faccio riferimento ad una visione del mondo o ad una meglio ancora ad una comunità trovo un po' di conforto già il povero Kierkegaard che vive la fede in maniera singolare e individualista in un certo senso già è altrettanto abbandonato destinato al naufragio di un laico che in pieno ventesimo secolo si confronta con una forma di trascendenza che viene dopo la morte di Dio nel senso nicciano alla quale non riesce nemmeno a dare un nome già nella tradizione precedente questo nome lo si poteva dare ed era il nome del Dio cristiano e dietro quel nome c'era tutta la vicenda di Gesù dei Vangeli c'è tutta la tradizione e poi c'è anche il conforto di un valore condiviso da una comunità anche se in ultima istanza quando muori muori la tua morte quindi l'ultimo respiro lo abbandoni appunto nelle mani di Dio come fa Gesù sulla croce lo abbandoni nelle mani di Dio non della comunità quindi l'ultimo respiro è un atto di fede in ogni caso perché tu non sai e devi abbandonare fino a un attimo prima poi ancora dico avere il supporto della comunità o della vicenda del mondo puoi non cadere nella disperazione o puoi alternare disperazione a speranza quando esali l'ultimo respiro metaforicamente si intendiamo il naufragio qui con l'atto del morire ma non è solo quello evidentemente è un processo lungo il naufragio allora dobbiamo intenderlo come affidarsi a affidarsi a ma adesso ci sono poi altre cose altri concetti abbastanza interessanti quindi i fatti della vita i fatti della realtà i fatti dell'esistenza sono orientati in modo tale che vedo chi di noi possa dubitare che il naufragio è inevitabile o di se qualcuno ne ha dubitato se ne può dubitare ovvero la visione di Asperts è in contrasto con tutte quelle visioni filosofiche alla Hegel o alla Marx cioè quelle che pretendono di razionalizzare il mondo o in termini scientisti positivisti altra forma di razionalità del mondo siamo comunque nel ventesimo secolo vi ricordate abbiamo detto le due visioni quella continentale esistenziale da un verso e quella analitico positivista neopositivista dall'altro verso iniziano a divergere anzi sono fortemente in contrasto e allora una visione scientista o filosofica da Hegel mi prefigura o mi fa credere e io in qualche maniera presto fede a questa questa visione che la ragione possa esaurire tutto lo scivile magari solo in potenza le magnifiche progressive sorti dell'umanità quelle contro cui tuona lo stesso Leopardi nella ginestra ovvero la ragione è un ottimo strumento è la tradizione illuminista quella che parte dall'illuminismo e che poi si declina la seconda metà dell'ottocento in termini positivisti e nel novecento in termini neopositivisti grazie alla scienza possiamo risolvere i nostri problemi certo non tutti qui ed ora ma strada facendo andremo sempre a stare meglio e il margine di inconosciuto di non ancora conosciuto e di non è comunque inconoscibile cioè la potenzialità se io dico conoscibile indico in quel termine conoscibile la possibilità di è quella che non viene negata è chiaro cioè io posso negare indubbiamente che l'umanità a un certo punto esaurirà tutte le cose da conoscere in un unico atto conoscitivo beh ci siamo arrivati ormai sappiamo tutto però posso coltivare la speranza se vogliamo la fede pure per un atto di fede che il conoscibile sia sempre alla mia portata e che quindi divende da me in ultima istanza stabilire le cause conoscere nuove idee nuove nuovi concetti e spostare un po' più in là la frontiera del conosciuto verso altre sfere del conoscibile quindi sperare che la ricerca un domani ne parlavamo ieri mi dia l'ennesima cura contro il cancro o contro quella malattia se vogliamo parlare in termini medici che mi aiuti a conoscere meglio la realtà naturale è il sogno quello della filosofia moderna se vogliamo che sposa la scienza la tecnica e la filosofia ecco lui sta dicendo che dal punto di vista esistenziale e per come orientato il mondo lui è uno scienziato comunque ha studiato medicina è uno psichiatra che in ultima istanza il gap il salto di livello che c'è tra la finitudine dell'essere umano del mondo così come noi lo abitiamo e il trascendente è assolutamente incolmabile quindi ripete in termini ripete si fa per dire riformula in termini novecenteschi ed esistenzialisti delle visioni che come tu hai giustamente individuato sin dall'inizio riecheggiano quello spirito romantico o lo stesso Kierkegaard abbiamo citato prima Leopardi o potremmo citare tanti altri pensatori chiaramente un medievale non userebbe questi termini d'accordo e il dio che sta qui dietro che non è un dio il divino il trascendente il quid l'indicibile l'essere in senso heideggeriano è un'entità è un qualcosa anzi non è un qualcosa perché è uno sfondo è difficile anche definirlo come un qualcosa perché se fosse un qualcosa lo potrei afferrare ma non è un qualcosa è una parola che indica l'apertura massima e infatti uno dei riferimenti che aveva usato Heidegger che userà Heidegger è quello dell'aperon a Massimandreo di cui vi ho detto l'aperon è un altro di quei concetti libide che troviamo proprio all'inizio della filosofia il primo frammento di Anassimandre che poi è il primo testo diciamo riportato in maniera chiara e distinta quindi citato direttamente della filosofia della filosofia occidentale parla proprio del concetto di apero che è l'indeterminato l'indefinito l'infinito d'accordo? non l'essere già l'essere di Parmenide ha una sua parvenza di definizione qui parliamo dell'indeterminatezza allora come lo chiamo questo sfondo in cui faccio naufragio lo chiamo essere con la M maiuscola se ti piace chiamalo così lo chiamiamo Dio sì purché non si confonda con una tradizione che ha dei punti di riferimento narratologici biblici di fede perché tutto questo appartiene in qualche maniera una dimensione passata come diavolo lo definiamo d'accordo? nella chiarificazione dell'esistenza naufraga l'inseità dell'esistenza cioè nel tentativo di chiarificare il senso dell'esistenza l'inseità non so è una brutta parola è la consapevolezza di sé che si ha nell'esistenza finisce con il naufragare cioè più mi spingo più mi spingo verso la chiarificazione più tento di chiarificare l'esistenza più io che esisto mi rendo conto che sono destinato in questa operazione al fallimento l'inseità vuol dire l'inseità è l'essenza della cosa in sé per sé cioè che da solo non ce la fai ecco l'inseità significa questo cioè che il tuo essere che è provvisorio transeunte limitato eccetera non basta a se stesso puoi bastare provvisoriamente a te stessa per nutrirti per la vita biologica e così via ma le tue risorse intellettuali spirituali morali e poi in ultima istanza biologiche perché sei destinato alla morte non sono sufficienti non sono bastevoli a farti cogliere l'essere cioè l'origine del tuo stare al mondo non ti giustifichi da sola puoi arrancare sforzarti quanto ti pare analizzare fino in fondo fino all'ultimo tratto il dna ma nel dna o sezionare un cervello fino all'ultima cellula fino all'ultimo neurone ma comunque non troverai da nessuna parte la conclusione del discorso il bandolo della madrassa l'origine ultima delle cose come aveva detto eraglito l'anima per quanto tu la vada esplorando non ha fine non troverai mai fine ti puoi spostare nell'esplorazione dell'anima è possibile muoverti in maniera indefinita come nello spazio vuoto qual è il limite d'accordo? non lo trovi quindi questo è un limite esistenziale e anche miosiologico sistemologico conoscitivo no? perché laddove sono probabilmente me stesso non sono solamente me stesso cioè laddove sono probabilmente me stesso nella mia più intima essenza è lì che mi rendo conto che il mio essere non è autocausato cioè che rimanda a qualcos'altro cioè all'essere in sé o al divino cioè è lì nel cuore nell'intimo della mia anima quando sto solo con me stesso che mi rendo conto di non essere sufficiente a me stesso quindi che la missione non si risolve con l'insteità ma che inevitabilmente mi si apre una finestra su qualcosa di trascendente qualcosa che oltre che non riesco a definire che non posso afferrare che non posso concettualizzare non mi ci posso aggrappare non c'è una zattera alla quale mi debbo aggrappare voi immaginate la sensazione questa sensazione è qui visto che parliamo di naufragio parliamo di annegamento e allora il trascendente assomiglia l'abbandono al trascendente assomiglia al fatto che a un certo punto provi disperatamente ad aggrapparti a questo a quello scoglio a questo a quel relitto della nave che si è spezzata e il relitto della nave è la tua quotidianità i tuoi punti di riferimento provvisori e sgocciolanti via nel corso della vita ma alla fine non trovi più nulla inizi a affondare e quando inizi a affondare in un oceano che non ha fondo non vedi il fondo le correnti ti spostano da una parte all'altra e a quel punto ti abbandoni ti abbandoni nell'abbraccio della morte nell'abbraccio del tutto diventi parte del mare vai oltre te stesso è l'ultimo atto poi c'è la morte biologica ma il confine è quello di abbandonare l'attaccamento al tuo io quello che tu pensi di essere per naufragare in una realtà superiore anche qui riferimento al buddismo ci può stare ve l'ho già fatto cioè quando esplori tutti i confini quelli che tu richieni siano i confini della tua anima la tua psiche la tua entità della tua personalità chiamata la come mi pare a un certo punto se provi a trattenere tutti i pensieri che ti passano per la testa disperatamente ad attaccarti ad aggrapparti a un certo punto non ce la fai più e lasci molli ma mentre molli i pensieri stai mollando anche il tuo io e quindi stai frantumando un atto del genere stai frantumando i limiti illusori del tuo ego d'accordo? d'accordo è così e poi l'esperienza va fatta descriverla a parole possiamo usare tutte le metafore che ci pare ma ecco lui che è uno psichiatra non è un modano buddista evidentemente quando parla di questa situazione qua di questa situazione qua sta parlando di quello che vivono le persone quindi che viviamo tutti noi o che siamo destinati a vivere tutti noi nelle cosiddette situazioni limite di cui vi ho già detto no? cos'è una situazione limite? è una situazione esistenziale che in genere ha a che fare con la morte in una maniera o nell'altra morte anche intesa in senso metaforico non necessariamente la morte biologica di questa o quella persona no? ecco e che mi mette con le spalle al muro che esaurisce con uno schiocco di dita tutte quelle risorse concettuali intellettuali da una parte tutti i luoghi comuni tutte quelle cose che diciamo a noi stessi per rassicurarci nella vita di tutti i giorni no? e d'altro canto anche fa svanire un'unica bolla di illusione anche tutte le nostre piccole manie le nostre piccole grandi ansie perché? perché ci mostra come tutto questo è assolutamente destituito di qualsivoglia fondamenta chiaro? la situazione limite è questa quella in cui non ho più risorse che faccio? a quale santo mi voto? posso soltanto pregare l'ultimo atto che ti rimane l'ultima istanza è la preghiera che sia una preghiera se sei fortunato in un certo senso cristiana o di questo di quella religione che voglio dire ci può stare come ci insegna anche Pasquale o Kierkegaard o se non hai questa fortuna pensando appunto che è tutto relativo ti abbandoni a una preghiera laica al silenzio che fai? cerchi di fare silenzio comunque ti confronti con qualcosa che le parole non riescono a definire non so se mi spiego avete presente la situazione guardate quanto è bella questa tua frase nella trascendenza naufraga il pensiero che si affida alla passione per la notte che cosa vi ricorda questa passione per la notte? la passione non è la passione verso quello che non conosciamo il mare il metà fisico non so a me la passione per la notte mi fa venire in mente quel brano che abbiamo letto sul canto della notte di Zaratustra di Nice è notte è il momento in cui dalle anime degli amanti zampillano le parole più belle più profonde interpreto in questa maniera fermo restando che si può interpretare probabilmente in tanti modi diversi poi non sono un esperto filologo di Asper ben inteso nella trascendenza la trascendenza è quella dimensione che abbiamo provato a definire ma che è indefinibile fa naufragio il pensiero quel pensiero lì che si affida alla passione per la notte quindi questo è un naufragio voluto un naufragio consapevole quel pensiero che consapevolmente si affida al notturno alla passione per la notte cioè alla spiritualità al misticismo cioè quando io mi affido andando oltre la ragione a un certo punto lascio decido decido di lasciare andare e di affidarmi alla passione della notte cioè mi innamoro del buio dell'inaudito del non dicibile del non visibile a quel punto faccio volutamente è un atto decisivo naufragio nella trascendenza cioè mi si apre la porta della trascendenza è chiaro? però è un naufragio voluto non un naufragio coatto cioè quando ho le spalle contro il muro quando è giunto il momento giusto allora in quel momento lì io decido di fare naufragio mi affido alla passione per la notte mi innamoro del buio mi innamoro della morte che è nata in tante maniere diverse mi ci tuffo dentro che faccio? avete presente quella sensazione mi sarà capitata una volta nella vita no? ora volo spacca il primo tuffo a mare non so il primo tuffo a mare il primo salto nel vuoto metaforico o anche reale il primo giro in bicicletta che a un certo punto mi lascia andare mi devo buttare no? certo ho alcune garanzie per carità che qualcuno forse viene a riprendere però in ultima stanza ho superato una piccola paura è la passione per la notte per l'autodistruzione se vogliamo un'autodistruzione però controllata non è un suicidio non è una volontà di farsi del male tutt'altro è proprio il contrario nelle situazioni limite diventa manifesto che tutto ciò che per noi è positivo è legato al negativo corrispondente nelle situazioni limite ci rendiamo conto del fatto che il pensiero razionale è assolutamente limitato perché? perché la realtà non è né bene né male è bene è male la realtà non è né vera né falsa è vera è falsa è l'aclito no? cioè tutto ciò che è positivo è legato al negativo quello entusiasmo d'amore l'estremo godimento di quella relazione quella tensione bestiale che ho provato in quella circostanza lì parlava già la lingua e già prefigurava l'estrema sofferenza del distacco cioè ogni cifra dell'esistenza se la andiamo a esplorare attentamente ha in sé o dispiegata o in luce i germi del suo opposto il piacere chiama il dolore e il dolore chiama il piacere il positivo chiama il negativo è nel momento è nel momento della situazione limite che mi rendo conto di questo quindi la fine di un amore la fine della vita la malattia di una persona cara vedo morire lentamente no? non c'è un bene che non sia anche un male possibile e reale a noi ci piacerebbe tanto avere ben chiaro che cosa è bene e che cosa è male per poter scegliere in maniera inequivocabile ma avete capito che questa scelta c'è negata se non nelle piccole cose le quali fanno riferimento a un'abitudine ma anche le abitudini sono assolutamente relative anche le abitudini sono assolutamente relative può andare bene per me per un piccolo periodo di tempo e mi rassicura si fa per dire mi consente di andare avanti ma qui dietro c'è tutta la vita c'è quell'ansia di fondo o meglio quell'angoscia di fondo ho usato questi termini quell'angoscia di fondo che è lo stato esistenziale il termine che usa Heidegger che nella misura in cui non la guardo fissa negli occhi non la affronto si tramuta si frammenta esplode come uno specchio in tanti minuscoli pezzettini di vetro che sono le ansie le piccole grandi ansie quotidiane cioè se non voglio affrontare o se non posso o se non me la sento se non sono in grado di guardare negli occhi quell'ospite inquietante per usare l'altro termine Heideggeriano che abbiamo già utilizzato anche parlando di Nietzsche e così via allora ho a che fare con le schegge di quell'immenso specchio che è uno specchio angosciante perché quando io mi guardo allo specchio vedo me stesso vedo anche il contrario di me stesso vedo la mia fine vedo l'immensità vedo come dire il vuoto che mi si arra le spalle devo guardarlo negli occhi questo specchio metaforico e provare l'angoscia altrimenti posso chiudere gli occhi e avrò a che fare con piccoli sbarlumi di consapevolezza o una sensazione di fondo per cui la mia quotidianità procede per il verso giusto si fa per dire in realtà non esiste un verso giusto vivo alla giornata ma vivo alla giornata tanti micro momenti di ansia di smarrimento di non senso eccetera eccetera ma magari questa è una visione abbastanza ingenua non la tua per carità nella visione del libero arbitrio nel senso di Agostino di Sant'Agostino c'è comunque il famoso ascensore di cui dicevamo a suo tempo cioè c'è un bene e c'è un male c'è Dio e c'è il male c'è l'anticristo c'è un alto e c'è un basso e dunque il mio libero arbitrio il mio essere umano consiste nel prendere l'ascensore per i piani alti del creato per i piani alti della moralità che coincide con l'andare verso Dio perché Dio è il bene con la B maiuscola oppure posso decidere di premere il pulsante e di scendere giù negli scantinati del male di allontanarmi da Dio assolutamente bravissimo bravo c'è l'idea bravo una vita vera bravo una vita vera è una definizione che ci può stare allora non esiste un universo un cosmo una realtà orientata in senso assiologico cioè non c'è il bene e il male c'è la realtà ci siamo noi esseri umani che spendendo il tempo di vita che è a nostra disposizione giudichiamo creiamo valori stabiliamo distinzioni più o meno fallaci in ultima istanza se non le consideriamo pragmaticamente limitate a quel momento lì ma se le vogliamo assolutizzare automaticamente ci mettiamo in una situazione di contraddizione di antinomia eccetera eccetera cioè più ci sforziamo di ordinare il mondo di pensarlo ordinato con un bene assoluto e un male assoluto più inevitabilmente andiamo incontro con un scacco una debacle e allora la situazione che descrivi tu è corretta il discorso non è ripeto il libero arbitrio in senso cristiano che sarebbe cosa buona tutto sommato che bello abbiamo già una mappa della realtà questa mappa della realtà ce lo dicono i padri della chiesa ce lo conferma la razionalità pura in qualche maniera in ultima istanza e Dio attraverso la sua parola nella Bibbia che ce lo assicura ebbene c'è una direzione ben precisa se andiamo in quella direzione il De Brando non possiamo assolutamente fallire non c'è un bene che non sia anche un male possibile e reale non c'è verità senza falsità non c'è vita senza morte ogni felicità è congiunta al dolore ogni realizzazione al rischio della perdita la profondità dell'animo umano in cui la trascendenza fa sentire la sua parola è connessa di fatto al disordine alla patologia alla stravaganza e questa connessione nella molteplicità insospettata delle sue manifestazioni sfugge ad ogni interpretazione univoca cioè non ce la facciamo a razione lui aveva a che fare con gente afflitta da patologie molto serie schizofrenia paranoia bello sarebbe poter definire che cos'è salute e che cos'è malattia bello è poter dire questo va bene questo è bene e questo è male lì c'è la verità e lì c'è la falsità bello sarebbe avere questo armamentario ma quando ha a che fare con i casi concreti pensate alla grande cosia di Alda Merini le categorie intellettuali non mi servono più ci sono diverse visioni del mondo e io mi ci posso tuffare dentro a queste visioni del mondo proviamo a metterci nei panni di qualcun altro o proviamo a metterci nei nostri stessi panni man mano che ci spingiamo nel profondo del nostro essere troviamo contraddizioni a volte discorsi pretestuosi che facciamo a noi stessi troviamo ambivalenze sentimenti contrastanti dolore mescolato a piacere troviamo un sacco di dubbi però in ultima stanza troviamo la nostra visione del mondo cioè se noi percorriamo la nostra geografia interiore il nostro mondo interiore troviamo un sacco di cose più o meno interessanti non dobbiamo giudicare azzurra perché giudicare è automaticamente come dire è come mettere un post-it sulle cose io non voglio giudicare nulla non voglio esplorare nel senso se io voglio capire il tuo punto di vista la tua visione del mondo devo sforzarmi di mettermi nei miei panni devo eliminare la categoria di giudizio pregressa altrimenti non mi ci muovo che prendo e ti metto automaticamente delle etichette ecco non funziona così e allora in ultima stanza mi rendo conto se faccio questo tipo di operazione e la faccio soprattutto con gente malata quindi che soffre di patologie più o meno serie mi rendo conto che ognuno ha le sue ragioni ogni cosa la si può comprendere e funziona come deve funzionare io al massimo posso aiutarti se faccio il consulente filosofico se faccio lo psichiatra in senso iasperziano posso aiutarti a fare un po' di luce un po' di chiarezza nel tuo mondo interiore o posso aiutarti a esprimerlo nel migliore dei modi ma non lo posso andare lì a giudicare non posso dire allora tu in base a questo parametro sei vai bene cinque in base a quest'altro parametro vai bene tre come certe volte ci fanno fare con le schede di S.A. lettura cinque e ascolto sette le persone non funzionano così non è questo quello che è rilevante non ci dice assolutamente nulla cioè noi possiamo prendere le persone possiamo prendere la nostra storia di vita possiamo provare ad imbrigliarla in diecimile mappe in diecimile griglie in diecimile cifre numeriche non ne veniamo a capo non ne veniamo a capo ognuno ha le sue ragioni questo non significa che poi nella vita nella condivenza civile praticamente non sia utile non sia buono e giusto stabilire le norme condivise che abbiano un senso però strumentale limitato utile a che si possa fare lezioni in santa pace per esempio ecco quello ha un senso ben limitato e dovrebbero essere regole che tutti quanti dovrebbero accettare o sulle quali tutti quanti sono d'accordo detto questo chi può giudicare qualcun altro questo è il punto vedi in fondo nella profondità dell'animo umano laddove appunto la trascendenza fa sentire la sua parola e troviamo disordine patologia stravaganza e tutta questa roba qui questa zona grigia questa immensa zona grigia che precede ogni etichetta perché tutte le etichette venivano da questa unica fonte e questa unica fonte trascendente per dirla con Nice è al di là del bene e del male al di là del bene e del male come la giudico tutti i giudizi stanno sotto per poter giudicare una cosa devo prima creare il bene e il male il vero e il falso ma il vero e il falso sono sempre sotto questo sfondo dipendono sempre da questo sfondo quindi non si adattano lo sfondo in sé sono subordinati allo sfondo sono relativi al contesto come le regole di un gioco se gioco a scacchi devo seguire le regole degli scacchi ma se provo a giocare a dama con le regole degli scacchi evidentemente non sono un vinco ma non capisco assolutamente nulla quindi i beni e i mali le etichette i valori e i disvalori i criteri di giudizio sono sempre relativi a un circuito a un ambito che noi umani poniamo di volta in volta più o meno significativo più o meno utile a quel contesto lì ma di fronte all'assoluto di fronte alla trascendenza di fronte alla profondità ultima della nostra anima ma che categorie utilizziamo quali torcette utilizziamo in quale griglia posso imprigionare Anna Mineo come la posso imprigionare in una griglia chiaro? in base a quale numero la posso numero possiamo provare a concordarlo io e lei ma è sempre un concordarlo relativo mettiamoci d'accordo io e te su quel criterio di giudizio ma non esaurisce il tutto no? oggi va bene domani non andrà più bene dovrò cambiare e quindi quando partendo dall'esserci giungo con la mia libertà la coscienza dell'essere quindi quando parto dalla mia dimensione incarnata qui sulla terra e giungo alla coscienza dell'essere cioè dello sfondo del trascendente dell'essere con la E maiuscola allora proprio nella più chiara decisione che il mio me stesso assume in ordine nell'azione sono costretto a sperimentare anche il naufragio non posso fare a meno di naufragare questo lo avete capito di fronte molti modi in cui si può naufragare rimane ancora aperta la questione se il naufragio è annichilimento pure semplice finisce lì ultimo respiro e tanti saluti qui si spegne nella coscienza sprofondo nel nulla va bene dal momento che ciò che naufraga va realmente in rovina o se invece nel naufragio viene a manifestarsi un essere per cui il naufragare non sarebbe soltanto un naufragare ma anche un eternare e questo rimane nel dubbio cioè l'ultimo atto che è il naufragio consiste in un'ultima istanza in un annichilirsi in un annillarsi nel semplice non essere più che forse è anche augurabile per qualcuno non lo so oppure è un passare a un altro stato dell'essere un diventare parte di un tutto come lo vogliamo definire vedi anche qui le parole non ci aiutano cioè quando moriamo diciamo al di là della metafora perdiamo la nostra coscienza individuale rifluiamo in un'altra dimensione dell'essere continuiamo ad essere eternandoci dal punto di vista materiale il nostro corpo le nostre le sostanze che provvisoriamente formano il nostro corpo diventano tornano ad essere parte del tutto naturale se la vogliamo vedere in questi termini o la nostra anima semplicemente rifluisce in un'anima più grande in una forza vitale più grande onnipervasiva l'anima mundi di cui parla Platone per esempio non lo so quando si raggiunge in questo caso c'è stato il progetto dell'opportunità non diventa quindi la perdita dell'essere stesso oppure diventare parte dell'essere diventare parte dell'essere non è anche il fine del divismo dell'amministrazione che ci sarebbe a tal punto a diventare tutto l'essere sì assolutamente sì anche se nel buddismo c'è un altro modo di affrontare la faccenda no no siccome io un pochino sono esperto te lo posso dire allora nel buddismo c'è un altro modo di affrontare la faccenda che è molto diverso o in parte diverso dal modo occidentale cioè qui abbiamo un modo quello della filosofia occidentale che dopo aver esplorato tutte le strade possibili e immaginabili dal punto di vista concettuale quindi avendo un'utilità una certa fiducia nelle possibilità conoscere la ragione umana produce questo discorso qui e lo produce sempre in termini concettuali cioè io ti sto dimostrando concettualmente e utilizzando parole più o meno sfumate che non posso concettualizzare nulla il buddismo sin dalle origini non ha la pretesa di concettualizzare alcun che no 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 quando ci sono dei racconti no cioè questa nei sutra buddhisti no i sutra sono i discorsi del Buddha che poi sono stati messi per iscritto nel primo secolo avanti Cristo dopo cinque secoli di tradizione orale così ho udito iniziano tutti così così ho udito e ci sta una storia o più di una storia o più di un riferimento in cui ci sono questi questi saggi questi sapienti hinduisti che vanno dal Buddha e gli chiedono spiegazioni sui gli fanno domande di questo genere ma l'anima è immortale o è mortale ma morire significa sprofondare nel nulla o perdersi in una realtà divina superiore ma se faccio così va bene o se faccio così va male e il Buddha gli risponde sempre inevitabilmente io di queste cose non so nulla non mi interessa assolutamente nulla non stiamo più a concettualizzare nulla a mettere etichette cioè il buddismo è una forma di soteriologia pragmatica vuoi seguirmi? ti dico come si fa trovati un posto tranquillo né troppo caldo né troppo freddo così recita lo Shobo Kenzo del del maestro Dogen che è un contemporaneo è un buddista giapponese contemporaneo di San Francisco quindi siamo tra il dicesimo e il dodicesimo secolo e il testo di questo maestro Zen non è che dice ok iniziamo analizzare la trascendenza del concetto di essere il concetto di Dio ma il bene con la bimba il male come possiamo dimostrare logicamente ma la ragione trovati un posto tranquillo né troppo caldo né troppo freddo mettiti di seduto davanti a un muro la schiena deve essere dritta il bacino leggermente sporto in avanti qui dietro devi sentire come dire la schiena che va arcuandosi e l'altra piega della spina dorsale in modo tale che sia perfettamente rilassato la testa deve il cranio deve essere perfettamente in equilibrio sulla spina dorsale né così né cosa né pendere in una direzione né pendere nell'altra metti le ginocchia incrociate metti il piede destro sulla coscia sinistra il piede sinistro sulla coscia destra metti le mani in questa posizione inizia a concentrarti sul respiro concentrati sull'aria che entra nel naso e sul momento in cui l'aria esce del naso i pensieri lasciali andare ti dice esattamente quello che devi fare punto io non ti dico nulla non ti devo dimostrare nulla ti devo mettere in condizione di sperimentarlo e questa è una delle differenze principali poi ovviamente le filosofie orientali hanno anche un'immensa produzione letteraria e ci sono dei momenti in cui si giunge anche a concettualizzare in genere ti arriva a concettualizzare proprio a dimostrare questa roba qui cioè ti dimostro che per quanti sforzi possa fare la ragione non arriverà mai a nulla cioè l'esito è sempre un esito scettico sempre un esito scettico la ragione assomiglia a una zattera la uso per attraversare ma la stessa dottrina del Buddha assomiglia ad una zattera la uso per attraversare il fiume metaforicamente il fiume della vita quando giungo dall'altra parte della zattera mi debbo liberare noi occidentali della zattera che metaforicamente è la ragione cioè tutto quell'apparato di concetti di formule che utilizziamo di lessico filosofico che utilizziamo no? perché siamo abbiamo fede ci crediamo pensiamo che attraverso uno sforzo razionale un altro po' un altro po' ancora si possa aggiungere a qualcosa siamo giunti a comprendere l'abbiamo veramente compreso? direi no non l'abbiamo veramente compreso ci siamo fondamentalmente anestetizzati anestetizzati alla stessa ragione perché la ragione in ultima istanza ti dimostra esattamente questo che non c'è nulla da trovare nulla da cercare che qualunque conclusione è automaticamente autocontraddittoria quindi non ci rimane che fare naufraglio per dirla con gli asperts cioè tu puoi stare tutto il pomeriggio lì a roverrarti il cervello per provare a risolvere una qualsivoglia questione tua personale poi sei esistenziale etica peggio che andare di notte sei un po' più concreta magari posso provare a risolverla tipo piantare un chiodo nel muro punto d'accordo? ma comunque sia per quanto io mi arrovelli non giungerò mai a nessuna soluzione per quanto io mi arrovelli e provi a definire una volta per tutte cosa debbo fare della mia vita quale potrà essere il mio futuro cosa è giusto cosa è sbagliato non c'è una strada razionale che mi conduca a una risposta univoca c'è sempre grigio contraddizione strade più o meno fangose o più o meno diritte torte si chiama vita è il punto che noi siamo sempre in cabino cioè non riusciamo a guadagnare una posizione terza andando lì su qualche monte come fanno gli indiani nei film dei cowboy che guardano la carovana che passa sotto noi siamo la carovana e non possiamo guardare la nostra vita dall'esterno e quindi il buddista ti direbbe mettiti seduto punto e prova a essere te stesso qui ed ora e accettare la realtà per quella che è ma senza chiacchiere c'è poco da chiacchierare che c'è da chiacchierare se non per dimostrarti che ogni chiacchiere è vana vanità di vanità no? vanitas vanitatum e allora che senso ha chiedersi se la morte è semplicemente un annichirirsi ma che significato ha? è un annichirirsi un precipitare nel nulla e andare in un paradiso dove ci stanno gli angioli ma che senso ha questo tipo di discorso? l'unica cosa sensata è quella che sono in grado di sperimentare anche gli animali ma noi abbiamo il disturbo della ragione è mettersi seduto o stando in piedi come vi pare a voi e guadagnare un attimo prezioso di pace di serenità fare pace con se stessi questa è l'unica cosa che possiamo provare disperatamente senza probabilmente riuscirci a realizzare e a questa strada qui non ci arriviamo con i 10.000 ragionamenti o meglio i 10.000 ragionamenti mi servono per capire che la ragione è uno strumento inefficace sapete quando io entro devo riparare una cosa prendo una sola chiave inglese provo 10.000 volte a girare quel bullone ma non ci sono santi quella chiave inglese non va bene e c'ho solo quella di chiave inglese e che faccio provo a rigirarla per la centonesima volta ma non va bene e questo che diciamo non riusciamo ad accettare non ci rassegniamo a questo capito quindi un buddista ti direbbe guarda amico poche chiacchiere se vuoi ti metti seduto se no quella è la volta e vai vai per la tua strada non sei pronto ma io non posso convincere qualcuno con le parole io nessuno può convincere nessun altro con le parole ma qui stiamo al limite non stiamo più nemmeno facendo analisi di un testo filosofico storia della filosofia e qui stiamo dicendo le cose come sono io non posso convincere nessuno lo vedi cioè io vi invito a come ho provato a fare anche ovviamente inutilmente con loro vi invito non a ascoltare le parole ma a vedere quello che succede quello che realmente succede quello che succede cioè la realtà in sé per sé la mia realtà la sua realtà la sua realtà qui ed ora parla sempre più alto ed è sempre più significativa di tutte le parole vere o false giuste o sbagliate auliche o meno auliche scolastiche o meno scolastiche che tu potrai mai pronunziare e la realtà è come dire vedi non si lascia zuppare dalle parole non arrivano lì le parole resiste alle parole non so se mi spiego i fatti l'essere l'essere conta centomila volte più di qualsivoglia parola bisogna fare come fanno gli animali come fanno gli animali quando hanno sonno dormono quando hanno un disturbo si allontano dalla fonte del disturbo quando hanno fame vanno a procurarsi da mangiare se hanno ancora fame provano a chiederti ancora da mangiare dopo di che se non glielo dai se ne vanno a posto perché inutile consumare altre energie sanno economicamente dal punto di vista biologico sanno qual è la cosa giusta da fare in quel momento esce un raggio di sole si mettono fuori al sole per 5 minuti perché sanno che il sole è importante perché hanno studiato la fotosintesi clorofiliana hanno letto un sacco di libri di scienze lo sanno e si prendono il sole giusto per loro fanno così tutti gli animali cioè sono immersi nella realtà l'uomo occidentale da questo punto di vista è piuttosto schizofrenico e usa la ragione per cercare di rompere la ragione di ritornare e questo è il nostro problema fondamentale cioè che utilizziamo uno strumento di cui ci siamo resi conto che è inefficace per cercare di tornare a una condizione in cui non abbiamo più bisogno di questo strumento non so se mi spiego mentre in un certo senso esatto che poi gli scettici ironiani gli scettici antichi sono arrivati esattamente a questo è la metafora della scala la scala è il ragionamento tutti i ragionamenti che posso fare a un certo punto arrivo nel luogo più alto prendo la scala la duttoria che mi serve la scala la stessa metafora la userà anche Wittgenstein che è un filosofo del linguaggio di questo periodo un grandissimo che ha scritto un trattato per purificare il linguaggio della scienza e per consegnare nelle mani dei neopositivisti cioè dei filosofi anglosassoni un linguaggio totalmente depurato da qualsivoglia tendenza metafisica linguaggio proprio fattuale descrittivo quasi digitale in un certo senso e conclude il suo trattatus dicendo quello di cui non si può parlare occorre tacerlo ma le cose più importanti la vera vita è al di là del linguaggio questo lo dice un filosofo del linguaggio la vera vita quei problemi reali la vita in sé è al di là della stessa possibilità di problematizzare usando la ragione usando le parole la vita stessa è un'altra dimensione ecco se noi ci caliamo in quella dimensione ma che tipo di giudizio possiamo dare quando abbiamo davanti un come diceva jasper sennò uno completamente folle folle ma poi chi è più folle brava vorremmo dire anche morte della filosofia punto interrogativo morte della filosofia dipende da che cosa intendi nel senso che se tu pretendi di arrivare ad afferrare qualche cosa di definitivo attraverso il linguaggio inevitabilmente come una mosca dentro un bicchiere cozza continuamente contro le pareti lisce del bicchiere non ti ci puoi arrampicare ma Matteo no perché in realtà questo è il paradosso è questo abbiamo bisogno della filosofia per poter capire questo è la scala la scala ci serve per salire qualche gradino sulla scala lo devi fare per poter arrivare a questo tipo di visione ci devi arrivare salendo la scala per renderti conto che la scala non va bene che la scala non è il fine ma è soltanto un mezzo tutte le parole che tu potrai produrre saranno dei mezzi tutte le storie che potrei raccontarti saranno la trama della tua vita non il punto d'arrivo quello è indicibile come lo dici alla fine o non lo puoi dire per niente quando non ci sei più che cosa dici quando la tua il tuo piccolo ego è annichilito e ti finisce la filodiffusione mentale nonché tutto il cazzeggio connesso alla filodiffusione mentale che più o meno ti fa soffrire che cosa c'è da dire cosa rimane da dire contro chi contro chi protesti a chi cosa ti attacchi oddio qualcuno potrebbe in maniera piuttosto vulgare aggiungere una parolina che vabbè infatti lui dice guarda volere direttamente il naufragio sarebbe un pervertimento che condurrebbe di nuovo l'essere nell'oscurità del nulla guarda che cosa dice cioè volere direttamente il naufragio è una metafora per dire il suicidio è un annichilimento lo stato di depressione finale voglio annichilirmi sarebbe un pervertimento che condurrebbe di nuovo l'essere nell'oscurità del nulla un po' come dice Schopenhauer il suicidio non è una via d'uscita guarda non ogni trapasso non ogni annientamento o abbandono di sé o rinunzia o rinnegamento esprimono l'autentico naufragio che rivela l'autentico naufragio che rivela è quello al momento giusto te ne devi andare quando sei pronto devi morire quando sei pronto ma non morire l'ultimo stadio quello moriremo morire alla vita strada che vuol dire vivere la vita strada facendo al momento giusto non puoi anticipare nulla avete presente quando cerchiamo di risolvere problemi che ancora non si sono posti almeno io faccio così quotidianamente allora dopo domani allora fra tre mesi poi faccio così e poi succederà così e annaspiamo sempre nel buio è l'unico effetto che otteniamo non è quello di risolvere i problemi o di anticipare una possibile soluzione o di lavorare una possibile soluzione è semplicemente quello di angosciarci qui ed ora punto anzi ne aggiungiamo altri fondamentalmente ce loviniamo la vita qui ed ora cioè più cerchiamo di controllare la nostra vita e la realtà che ci circonda più inevitabilmente ci rendiamo conto che non è possibile è come le sabbie mobili più ci agitiamo più sprofondiamo nelle sabbie mobili allora non ogni non ogni onofragio il onofragio è il momento giusto oggi la nostra storia finisce e ci dobbiamo lasciare e io gli dico addio e tu mi dici addio metaforicamente devo chiudere una porta aprirne un'altra ma se io provo a forzare le cose e dico addio prima del tempo non mi vado a sorbire l'amaro calice a fili in fondo cerco di saltare la fase successiva inevitabilmente fallisco non so se avete mai vegliato una persona che sta morendo immagino di no spero di no addio piacendo non è che poi uno può anche immaginare solamente magari muoia ma quando muore c'è l'agonia è una cosa terribile attendere una persona muoia esali l'ultimo respiro e però morirà quando deve morire quando è il momento giusto e tu devi vivere quel momento lì quella fase lì come un cammino non puoi anticipare nulla né puoi annichilire la tua coscienza con un gesto finale rinuncio che rinunci sei sempre in ballo la realtà parla sempre più forte e quindi torniamo all'esempio dell'animale del cane quando c'è fame mangia quando c'è sete bevi quando c'è freddo riscaldati che altro c'è da dire allora non possiamo vedi non ogni non ogni trapazzo non ogni annientamento o abbandono di sé o rinuncio o rinnegamento esprime un autentico naufragio che rivela il trascendente quello che c'è oltre se facciamo il salto al momento sbagliato non arriviamo dall'altra parte la cifra dell'eternare nel naufragare si chiarisce solo quando io non voglio il naufragio ma rischiando l'affronto ma guardate questa è una lezione di vita guardate questo è impressionante cioè non vuol dire è antidepressivo cioè il naufragio giusto quello che rivela è il naufragio che viene alla fine della storia quando io ho combattuto con tutte le mie forze perché io voglio vivere quando io ho combattuto con tutte le mie forze contro l'annientamento quando avrò resistito alla morte fino alla fine poi alla fine sono destitato al naufragio ma non devo bere fino in fondo l'amaro calice della vita mi spiego quindi è veramente un'indicazione antidepressiva fatta da uno psichiatra in un certo senso che dice combatti finché c'è vita combatti ma non perché poi devi vincere chissà quale guerra l'unica guerra che devi vincere è la battaglia con te stesso come fanno i samurai no l'unica vera battaglia è quello che hai con te stesso è con te stesso che ti misuri con la tua paura non col nemico poi ti uscirà vincitore dal duello boh forse tu forse lui di fatto se non controlli il tuo corpo e non sei concentrato in quello che fai sicuramente tu perdi esatto il buscito e quell'allenamento lì è coerente alla filosofia zen quella del buddismo di cui dicevamo prima io non posso fare dei piani in base alla lettura della cifra del naufragio perché i piani li posso fare solo con ciò che mi garantisce durata e stabilità cioè più provo a immedesimarmi nel naufragio più provo a descrivere tutti gli attributi di Dio più provo a immaginare a controllare a concettualizzare a teologizzare più inevitabilmente fallisco perché i piani li posso fare solo con ciò che mi garantisce durata e stabilità ma la realtà non è né durevole né stabile la realtà resisterà sempre alla concettualizzazione resisterà sempre al linguaggio e allora le parole sono delle cifre sono dei simboli che mi possono aiutare a raccontare la mia storia a muovermi in questo paesaggio che è la mia vita più o meno incerto che è la mia vita hanno una funzione strumentale ma non esauriscono la realtà detto in altri termini mettiamola in altri termini ancora la realtà di cui noi stessi facciamo parte è altra cosa rispetto al linguaggio il linguaggio è la chiave inglese di prima possiamo dire quello che ci pare pensare quello che ci pare ma la realtà resisterà sempre sarà sempre altra cosa rimarrà sempre indicibile allora tu dici allora dobbiamo smettere di fare filosofia ma no il fine della filosofia consiste proprio in questo nel naufragare nel momento giusto e per naufragare nel momento giusto dobbiamo renderci conto della ineffabilità e della inaffidabilità dello stesso linguaggio non so se mi spiego lo so che è difficile l'azzurra ma io tento in tutte le maniere però ecco in questo sono in buona compagnia nel senso se io sono fisso e sono sicuramente fisso ma anche questi sono fessi questi nostri interlocutori perché poi alla fine i concetti chiave sono sempre gli stessi ognuno se li racconta in maniera diversa li dettino in maniera diversa ecco perché ho scelto questo approccio didattico quindi non ho scelto l'approccio adesso vediamo cose completamente diverse vediamo la stessa cosa lo stesso discorso che vado ripetendo da un paio di mesi a questa parte da prospettive linguistiche usando per dirla con Wittgenstein giochi linguistici diversi magari per azzurra questa metafora del naufragio è più efficace ci si ritrova di più in termini narratologici forse per Alessia è più efficace invece la visione dell'essere per la morte d'accordo ma sostanzialmente qui stiamo dicendo sempre la stessa cosa stiamo prospettando sempre la stessa visione la cifra non si manifesta quando io lo voglio ma quando faccio di tutto per evitarne la realizzazione cioè più resisto più resisto e più la cifra c'è la morte c'è il naufragio si realizzerà no è un momento giusto devo morire combattendo ecco per dirla come dicono gli americani if you are gonna die die with your boots on muori con i tuoi stivali infilati tutti i guerrieri si augurano di morire combattendo scusa così come che ne so uno studioso si augura di morire studiando diciamo che quantomeno muori coerentemente a quello che hai fatto uno che ha cazzeggiato tutta la vita si augurerà di morire cazzeggiando uno che ha fatto il comico dicendo una battuta uno che ha fatto l'idraulico cercando di mettere al posto rubinetto non lo so di come dire ovviamente no la dimensione esistenziale è un altro paio di maniche no e quindi bisogna combattere fino in fondo bisogna combattere fino in fondo e l'altro passo vi volevo leggere questo ve lo leggo soltanto riguarda Camus a proposito del del combattere fino in fondo allora questo brano qui è un po' più facile da leggere però non è assolutamente più semplice da comprendere se vogliamo la peste allora è scoppiata la peste è un romanzo romanzo a sfondo esistenziale è scoppiata la peste in orano e praticamente si è diffusa la peste e ci sono atteggiamenti diversi su cui affrontare la peste c'è un padre che qui viene evocato un prete questo Panelu il quale dall'altare tuona contro il popolo che ha peccato e che dunque si deve pentire e la peste è un castigo divino classica chiave di lettura vi sta bene è un castigo divino quindi lo si affronta con la penitenza con la preghiera e così via poi ci sono questi due personaggi un medico che si chiama Ryu e Tarru allora l'uno questo Tarru è un cittadino il quale si rimbocca le maniche dice c'è la peste e beh mettiamoci mi do da fare mi assumo la mia responsabilità mi metto a aiutare la gente affestata cerco di disinfettare le strade faccio qualcosa per la gente e poi c'è quest'altro personaggio questo Ryu che invece è un medico è un medico e anche lui ha una visione che alla fine concorderà sarà coincidente con quella del Tarru qui non c'è nessuna prospettiva divina è tutta umana molto molto simile al naufragio di Jasper a quel combatti fino alla fine soltanto che qui non c'è da combattere fino alla fine solo e tanto per se stessi ma c'è da combattere fino alla fine con il resto dell'umanità è simile a quella social catena di Leopardi che abbiamo provocato anche prima quella tranginestra finché sei vivo combatti però non farlo solo e tanto per te stesso combatti per l'umanità devi avere uno scopo ulteriore poi alla fine comunque c'è nulla cioè non crede a nessuna prospettiva trascendente evidentemente ne crede ne è cattolico e non crede nemmeno che in ultima istanza ha avuto diciamo una fase marxiana ma in ultima istanza ha rinunciato anche a credere al fatto che la storia sia orientata in un certo senso e che le cose miglioreranno e non potranno che migliorare progressivamente che ci sia il momento della rivoluzione non esiste la rivoluzione lui cancella il termine di rivoluzione lo sostituisce con l'uomo in rivolta l'eroe di Camus è Sisypho Sisypho se lo avete presente Sisypho è quello che si accolla il masso se lo porta su e poi il masso gli ritorna giù e ogni volta scende lo riporta su questo è il compito dell'umanità accollarsi questa responsabilità con una prospettiva disperante però non c'è nessun futuro non c'è nulla che dobbiamo realizzare che ne pensa lei dottore della predica di Panelu il prete la domanda era posta con naturalezza e Riu rispose nello stesso modo ho troppo vissuto negli ospedali per amare l'idea di un castigo collettivo quello che proponeva il prete ma lei sa i cristiani talvolta parlano come lui senza mai realmente pensarlo sono migliori di quanto sembrano lei pensa tuttavia come Panelu che la peste porta un suo beneficio che apre gli occhi che costringe a pensare il dottore scossa la testa con impazienza come tutte le malattie di questo mondo ma quello che è vero dei mali di questo mondo è vero anche della peste può servire a maturare qualcuno ciò nonostante quando si vedono la miseria e il dolore che porta bisogna essere pazzi ciechi o vili per rassegnarsi alla peste cioè si ha un valore didattico si impara sai quelle esperienze da cui impari qualcosa della vita un eterno imparare ma no quando stai negli ospedali ha a che fare con la miseria con gli umori umani con la disperazione ma che dobbiamo imparare che ci abbiamo da imparare dalla sofferenza Riu aveva appena alzato il tono ma Tarru fece un gesto con la mano come per calmarlo e sorrideva sì disse Riu alzando le spalle ma lei non mi ha risposto ha riflettuto Tarru si resse un po' nella poltrona e protese la testa nella luce lei crede in Dio dottore? anche questa domanda era posta con naturalezza ma stavolta Riu visitò no ma che vuol dire questo sono nella notte cerco di vederci chiaro da molto tempo ho finito di trovare originale la cosa non è questo che la divide da pane l'u? cioè quello che dice sono nella notte non credo in nessun Dio non vedo nessuna luce totalmente laico è il nostro dottore non credo Pannellù è un uomo di studio che ha veduto morire abbastanza per questo parla in nome di una verità ma ogni piccolo prete di campagna che amministra i suoi parrocchiani e ha sentito il respiro dei moribondi la pensa come me curerebbe la miseria prima di volerne dimostrare la perfezione Riu si alzò il suo viso era in ombra lasciamo stare disse se lei non mi vuole rispondere Tarru sorrise senza muoversi dalla poltrona posso rispondere con una domanda? a sua volta il dottore sorrise lei ama i misteri disse vada avanti ecco disse Tarru perché lei stesso mostra tanta devozione se non crede in Dio la sua risposta mi aiuterà forse a dare la mia senza uscire dall'ombra il dottore disse che aveva ormai risposto che se avesse creduto in un Dio onnipotente avrebbe trascurato di guarire gli uomini lasciandone la cura a lui ma che nessuno al mondo no nemmeno Panelu che credeva di credervi credeva in un Dio di tal genere nessuno infatti si abbandonava del tutto e in questo almeno lui Riu credeva di essere sulla via della verità lottando contro la creazione come essa è cioè anche chi crede in un Dio in un Dio manifesto comunque lotta finché vive contro questa realtà che è assolutamente sovrastante anche chi dice di non credere in un Dio del genere dice se esistesse un Dio del genere provvederebbe tutto lui io non dovrei fare assolutamente nulla non lo so se esiste o non esiste so che in questo mondo qui ed ora c'è bisogno di me se ci sta un moribondo se c'è una persona sofferente io sono un medico lo devo assistere non so quello che c'è dopo magari fra 5 minuti è morto ma il mio dovere è quello di assistere fino al mio di ultimo respiro devo continuare a combattere per l'umanità stessa o per dare senso fino all'ultimo alla mia vita questo è quello che sta dicendo e questo allora disse Tarru l'idea che si fa del tuo mestiere è un medico quell'altro presto a poco rispose il Dottore tornando in luce Tarru fischiò piano il Dottore lo guardò sì disse lei si dice che ci vuole dell'orgoglio ma io non ho che l'orgoglio che ci vuole mi creda non so quello che mi aspetta né quello che accadrà dopo per il momento ci sono dei malati e bisogna guarirli poi essi rifletteranno e anch'io ma il più urgente è guarirli io li difendo come posso ecco mi rimbocco le maniche e agisco contro chi Ryu si voltò verso la finestra indovinava il mare in lontananza e una condensazione più scura dell'orizzonte sentiva soltanto la fatica e nello stesso tempo lottava contro un desiderio subitaneo e irragionevole di abbandonarsi un po' di più a quell'uomo singolare di cui si sentiva fratello non ne so niente Tarru le giuro non ne so niente quando ho intrapreso questo mestiere l'ho fatto astrattamente in qualche maniera ne avevo bisogno era una posizione come un'altra una di quelle che i giovani si propongono Alessia forza anche perché era particolarmente difficile per un figlio di operaio come me e poi bisogna veder morire lei sa che ci sono persone che rifiutano di morire ha mai sentito una donna gridare no nel momento di morire io si e mi sono accorto allora che non potevo abituarmi ci ero giovane allora il mio disgusto credeva di rivolgersi all'ordine stesso del mondo poi sono diventato più modesto semplicemente non ho potuto abituarmi più a veder morire non so nient'altro ma dopo tutto riuttacqua e si detta di nuovo si sentiva la bocca secca dopo tutto disse Piano Turrò dopo tutto ricominciò il dottore ancora esitante con lo sguardo attento su Tarru è una cosa che un uomo come lei può capire non è vero se l'ordine del mondo è regolato dalla morte forse va al meglio per Dio che non si creda in lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte senza levare gli occhi verso il cielo dove lui tace sì approvò Tarru posso capire ma le vostre vittorie ecco saranno sempre provvisorie Riu sembrano rattristarsi sempre lo so ma non è una ragione per smettere la lotta che è esattamente lo stesso concetto che abbiamo visto prima del naufragare al momento giusto continuando a lottare fino alla fine soltanto che qui lo avete visto c'è l'impegno a lottare non contro i mulini a vento quelli di Don Quixote c'è da lottare nella realtà a favore di altri esseri umani che si creda o meno a Dio non cambia assolutamente a nulla dobbiamo credere nell'umanità morto Dio dobbiamo imparare a credere nell'umanità e purtroppo questo disegno questo libro è stato scritto durante la seconda guerra mondiale si sperava ancora che dopo la guerra il mondo cambiasse il mondo purtroppo non è cambiato grazie a tutti